Alessandro Tonelli e Leva Yacht, siamo qua al Salone di Genova quest'anno presentando il 50, la nostra barca di punta e unico modello fino adesso in una versione un po' più crociera di quella presentata l'anno passato che anticipa comunque le tendenze e quello che andremo a fare sulle nostre due versioni della barca nuova che lanceremo in primavera, The 42, un 40 piedi nuovo, totalmente ispirato a The 50, sia per disegno, sia per livello di finiture e per fruibilità della barca, per dare a chi vuole navigare a vela una barca in due configurazioni, una definita mediterraneo per poter navigare in aree con poco vento, avendo il divertimento di navigare a vela ma anche dedicarsi a ampie navigazioni e una versione invece Ocean più croceristica, dedicata a chi vuole proprio dedicarsi alla crociera pura e alla navigazione a grande distanza. La barca che al momento è in costruzione sarà disponibile, pensiamo di lanciarla a maggio 2019, visibile e navigante dell'anno che viene. La differenza tra questa barca e The 50 presentato l'anno scorso riguardano solo l'allestimento, abbiamo un layout degli interni diversi diversi, più classico con una cucina arretrata, non più la cucina paratia, la barca un albero di alluminio pur mantenendo la stessa superficie velica, come richiesta di customizzazione da parte dell'armatore di questo progetto per avere una barca ancora più fruibile sul mercato ma sempre una barca con delle ottime prestazioni.